Il campo di intervento della medicina fisica e riabilitativa è vasto e differenziato. Dai traumi sportivi alle patologie oncologiche passando per il long covid, la riabilitazione viene utilizzata ad ampio raggio per migliorare la vita del paziente. Di questo si è parlato nel congresso regionale Sinfer, la società italiana di medicina fisica e riabilitativa. La giornata di approfondimento si è svolta nell'auditorium del rettorato dell'Università d'Annunzio di Chieti. C'è una sinergia da quest'anno con l'Università e il fatto che il congresso si svolga proprio all'Università la dice lunga e proprio perché si vuol dare all'utente la possibilità di avere un accesso oltre che clinico anche scientifico importante. Noi dovremmo essere sicuramente più chiari sulle procedure di accesso alla medicina fisica e riabilitativa per utilizzarla al meglio, per non avere né lo spreco di risorse, che in alcuni casi vediamo, ma essere presenti quando la necessità è importante. La medicina fisica e riabilitativa è molto vasta perché abbraccia tutto ciò che è patologia e il dopo. Ci siamo molto focalizzati sul Long Covid. Abbiamo attuato proprio ad indirizzo regionale gli ambulatori Long Covid ai quali si può afferire sia per una prosecuzione diagnostica ma innanzitutto per il trattamento riabilitativo. Il cittadino utente può fare riabilitazione respiratoria regandosi presso i servizi di riabilitazione, fa il trattamento e poi torna a casa. Non solo riabilitazione respiratoria, noi sappiamo che il Long Covid comprende anche problematiche neurologiche, anche problematiche muscolari, perché il Covid, specialmente nella prima forma, quella più aggressiva, ha creato molti problemi anche sul movimento e quindi la riabilitazione, in questo caso, è una riabilitazione con un PRI, un piano di trattamento individuale, personalizzato sul cittadino. Per la vostra percezione, i casi di Long Covid e quindi che necessitano di riabilitazione sono in aumento, sono in diminuzione? Allora, sicuramente il virus si modifica, si è modificato. Diciamo che dal punto di vista della gravità, e quindi se parliamo di mortalità, sicuramente è migliorata. Invece, per quanto riguarda i trattamenti, come facevamo riferimento prima, alle patologie neuromuscolari, eccetera, anche con la forma più benevole, li abbiamo e possono essere. Ci abbiamo gente che ha disturbi anche a un mese, a due mesi, a tre mesi dalla patologia.